ciao a tutti e benvenuti nel terzo video della serie dedicata google gruppi nel primo se vi ricordate abbiamo fatto una panoramica su google gruppi abbiamo visto come si trova un gruppo come ci si scrive come si crea un nuovo gruppo da zero e poi nel secondo tutorial abbiamo imparato a gestire al meglio i membri di un gruppo oggi arriviamo al clou perché finalmente vediamo come creare e gestire le conversazioni come personalizzarle attraverso impostazioni avanzate e come utilizzare le funzioni di collaborazione quindi cominciamo subito per creare una nuova conversazione basta un semplice clic sul nome del gruppo e poi un altro clic su nuova conversazione qui in alto a sinistra nella finestra che si apre andiamo subito ad inserire un oggetto ovviamente l'oggetto di questa mail diventa praticamente l'oggetto della conversazione quindi metto un generico titolo un generico oggetto benissimo inseriamo un messaggio ma mettiamo del testo riempitivo ok e poi facciamo clic su posta messaggio benissimo abbiamo qui la nostra prima conversazione selezionando questa conversazione vediamo un po cosa si può fare anzitutto vedete qui un lucchetto tramite questo lucchetto si può bloccare la conversazione e attraverso il blocco andare a bloccare tutte le risposte ai post e tutte le altre attività collegate si può anche eliminare la conversazione si può segnalarla si può contrassegnare come letta oppure si può aggiungere o rimuovere da speciali benissimo vediamo ora come rispondere per farlo basta aprire la conversazione con un clic vedete che da qui è possibile rispondere al gruppo cliccando su questa su questo pulsante rispondi a tutti si può rispondere solamente alla persona che ha pubblicato il messaggio scegliendo invece rispondi all'autore oppure semplicemente si può inoltrare come si fa come in qualsiasi altra email benissimo abbiamo quindi visto come creare una nuova conversazione come rispondere o come inoltrarla vediamo ora come personalizzarla si avete capito bene è possibile personalizzare alcuni punti salienti quali per esempio il prefisso dell'oggetto è il piedipagina di ogni mail scegliendo tra le impostazioni gruppo e poi a seguire la sezione opzione email ecco qua opzioni mail quindi abbiamo prefisso oggetto che va ad aggiungere automaticamente un testo all'inizio dell'oggetto dell'email quindi mi suggerisce anche di racchiudere il prefisso tra le parentesi quadre che ne so vado a scrivere padel ok supponiamo che sia un gruppo dedicato al padel e poi includo il piedipagina standard no preferisco includere un piedipagina personalizzato e vabbè faccio per ridere ragazzi rispondete per favore vabbè supponiamo che sia questo il nostro piedipagina personalizzato se clicco su salva modifiche tutti i messaggi adesso avranno come piedipagina questo piedipagina personalizzato e come prefisso dell'oggetto sempre padel se volete tra un attimo possiamo anche fare una prova prima di uscire da questa schermata vi faccio notare che io posso eliminare il gruppo vi ricordo che è un'operazione che può fare solamente il proprietario esattamente come abbiamo detto nel primo tutorial della serie che vi consiglio di vedere qualora non l'aveste ancora visto oppure di rivedere per ripasso dicevamo che è un'operazione che può fare solo il proprietario e quindi se lo siete pensateci bene prima di farla perché è un'operazione irreversibile questo significa che ha come effetto la rimozione definitiva e completa del gruppo e quindi anche l'impossibilità poi di ripristinarlo ok proviamo a creare una nuova conversazione quindi io adesso non metto il prefisso però vi faccio vedere poi che apparirà automaticamente quindi metto come oggetto solamente prova come messaggio di nuovo prova posta messaggio perfetto se vado in conversazioni sembra che non ci sia né il prefisso nell'oggetto né tanto meno il piedi pagina personalizzato ma se vado a scaricare l'email vedete che in realtà io avrò come prefisso padel vabbè il messaggio il messaggio che ho scritto e come piedi pagina ragazzi rispondete per favore quindi sono elementi che non vedrò neanche qui ma che ho settato tra le impostazioni di base del gruppo e quindi partiranno automaticamente senza che io le debba reinserire tutte le volte chiudiamo questa parentesi e vediamo un altro aspetto positivo dell'uso di gruppi ovvero la condivisione dovete sapere che google gruppi offre varie funzioni di collaborazione come ad esempio la possibilità di condividere file documenti creare eventi dal calendario invitare gruppi di persone così via dicendo per fare ciò basta usare altri strumenti google come ad esempio drive oppure il calendario che io avevo già aperto in un'altra scheda dunque se ad esempio per domenica 15 settembre volessimo organizzare un evento e invitare 50 amici senza un gruppo dovremmo aggiungerli uno ad uno se invece noi abbiamo un gruppo con i nostri 50 amici come membri possiamo inserire solamente l'indirizzo del gruppo e automaticamente tutti i loro indirizzi saranno presenti nella lista degli invitati quindi supponiamo che tra le 9 e le 10 di domenica 15 settembre ci sia un party privato e che io potrebbe aggiungere gli invitati abbiamo detto che posso permettermi grazie ai gruppi di mettere qui solamente un indirizzo benissimo e vi dirò di più perché questo non ci obbliga a invitarli tutti infatti se io clicco su questa freccetta e poi clicco su espandi e invita tutti i membri separatamente posso andare a rimuovere delle persone cliccando per esempio qui vedete che l'ho rimossa oppure andare a contrassegnare alcune persone come facoltative ad esempio segna come facoltativo vedete che questo invitato diventa facoltativo comunque in ogni caso rimane il vantaggio di aver scritto un solo indirizzo e non tutti quelli dei miei 30 40 50 70 invitati ok analogamente avviene nella condivisione di documenti presentazioni fogli di calcolo e così via dicendo avevo aperto drive apposta supponiamo di voler condividere un foglio di calcolo ad esempio questo clicco su condividi e se noi abbiamo il nostro gruppo di lavoro con tutti i membri del team chiaramente non dovremmo ricordarci i nomi o gli indirizzi di tutti per condividere questo benedetto foglio di calcolo con il nostro team ma ci basta inserire come destinatario della condivisione l'indirizzo del gruppo e come vedete con estrema facilità possiamo andare a condividere questo foglio di calcolo con tutto il team io direi che con questo tutorial possiamo concludere la serie dedicata a google gruppi spero tanto che abbiate trovato questi video utili giusto per comprendere e utilizzare al meglio questo strumento gratuito di google se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like commentare e condividerlo con amici colleghi o chiunque ne possa trarre beneficio infine se non volete perdervi altri tutorial su servizi e prodotti google iscrivetevi al canale magari anche attivando le notifiche così da rimanere aggiornati su tutti i prossimi caricamenti grazie per avermi seguito e alla prossima ciao